ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono simon 38 e oggi facciamo un altro video dello spalviero piano piano lo stiamo portando avanti questa volta però porterò solamente un numero perché ho visto che questo numero 18 è molto complicato e ci sono tanti passaggi da fare e verrebbe un video troppo lungo invece negli altri video portavo due numeri alla volta perché vedevo che comunque c'erano poche cose da montare allora ne portavo due in questo 18 monteremo il motore sull'ala e faremo un po di miglioramenti nel video visto che l'altra volta non è venuto benissimo spero che questo venga meglio però prima di iniziare il video vi ricordo sempre un like e vi ricordo un'iscrizione così mi supportate questa è la fustella dei pezzi adesso ce li andiamo a montare e spero che il video si è di vostro gradimento quindi andiamo a dare indirettamente al montaggio allora ragazzi eccoci tornati qui come di consueto sempre un'occhiata al nostro bellissimo fascicolo ve lo faccio dare perché lo faccio sempre qui ci parla del del cruscotto dells 79 se volete leggere mettete in pausa qui ci parla tutto del cruscotto e qua ci da un panoramica poi qui come vi dicevo guardate qua come avviene il montaggio ci sono tanti passaggi riprenderemo il nostro motore che abbiamo costruito nelle uscite precedenti e qui ci sono un sacco di passaggi guardate qua cioè abbastanza 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 qui avete visto quanti passaggi e qui guardate le prossime uscite la prossima uscita la 19 allora ragazzi non perdiamo tempo e andiamo a montarci allora qui abbiamo il nostro bel motore e qui abbiamo i longheroni che abbiamo montato nella uscita precedente allora qua ci dicono vi faccio vedere man mano che facciamo il montaggio quasi dicono di di cominciare a prendere questi qua e metterli sui pezzi e poi di staccare il carrello nella ruota dal motore andiamo a farlo allora qui abbiamo la nostra fusta i nostri fustelle con i tutti i pezzi spostiamo qui e andiamo a cominciare a staccare i primi pezzi che sono il qua il 3 5 4 6 3 4 5 6 sono messo che dovremmo essere questi due qua andiamo a farlo qui abbiamo staccato il primo pezzo e va messa qui dentro come facciamo vedere qui dentro e poi il secondo qui dentro adesso andiamo a fare ci mettiamo un po di colla e il primo step l'abbiamo montato visto che c'è un po di colla torniamo via con il dito il primo step l'abbiamo montato adesso qua ci dicono di andare a svitare il carrello questo qua andiamo a svitarlo e ci vediamo tra un secondo poi qua ci dicono di prendere la parte che abbiamo staccato per carrello andare a fissare qui e di andarci a mettere i perni dovrebbero essere questi qua i perni qua vedete guardate qua la ruota del carrello fissarla dietro adesso non mi farò vedere il fissaggio ma vi faccio vedere un attimo il fascicolo quindi adesso lo andiamo a montare e tra un secondo mi faccio vedere come è venuto poi vi spiego come ho fatto perché farlo insieme verrebbe troppo complicato allora ragazzi qui l'abbiamo montato ma purtroppo c'è stato un incidente di percorso mi si sono rotti questi tre perni guardate vedete questi tre perni mi si sono staccati da qui purtroppo devo andare a riordinare l'uscita in cui erano erano stati dati li devo sostituire purtroppo vi sono staccati che spiega qua mi è proprio andata male per fare uno sforzo per vedere se chi si chiudeva mi si sono spaccati e incollando le questi quando si chiuderebbe più adesso monteremo il resto da se ci dicono di montare il motore che questo e poi tutto adesso andiamo a montarci queste che va montato qui mi fa montato qui e mi farò vedere il montaggio poi questa le andremo riordinare sta uscita qua ragazzi qua con un po di fatica ce l'abbiamo fatta abbiamo montato il nostro bel pezzo qui l'abbiamo montato dietro mi ho messo delle viti abbiamo fatto un po di fatica qua è la copertura 4 ve lo temi l'ho già spiegato mi è andata di sfiga ci sono rotti pezzi questo non sta più su in teoria le andiamo a cambiare però non è un problema si può ordinare l'uscita precedente poi qui una volta che abbiamo montato tutto ci dicono di fare di mettere le viti qua e poi ci conticono di continuare con mettere questi pezzi qua qui vi faccio vedere i pezzettini come vanno messi poi qua ci dicono di prendere il serbatoio che avevamo nella uscita precedente e qua tutti i passaggi dal 4 all 11 e poi qua tutti questi qua mettere tutto e poi alla fine vedete di mettere qua adesso noi andiamo a farlo e poi vi farò vedere come è finito perché inutile che vi faccio vedere ogni singolo pezzo che montiamo perché sennò veramente verrebbe un video lunghissimo e poi non servirebbe a nulla perché tanto i passaggi sono tutti uguali vi spiegherò a montaggio finito come come viene montato il pezzo allora andiamo a farlo e ci vediamo tra un secondo allora ragazzi ho sudato sette camicie per fare questo aereo guarda se sapevo che era così complicato avrei lasciato perdere però purtroppo siamo in ballo e dobbiamo ormai continuare non potrei mollare all'uscita numero 18 perché comunque più avanti sto andando e più sto vedendo che questi componenti sono veramente difficili da montare allora qui ho messo tutti i pezzettini guardate qua tutti e ho messo anche il carburante come si chiama il carburante qui un cavolo si chiama aspetta il serbatoio scusate non il carburante il serbatoio qua ho messo il serbatoio qua come ho detto mi sono spezzati questi tre andremo a ricomprarli per forza perché ci riteniamo a bottino andiamo a riprendere il fascicolo in cui uscivano qua ho messo il motore questo praticamente viene così guarda qua ci ho messo anche il pezzettino qua che mancava qua questo praticamente viene così ragazzi se sapevo che era così complicato avrei lasciato perdere perché comunque non è la prima volta che mi trovo in difficoltà a fare questi modelli e sicuramente è la prima volta che faccio un aereo non l'ho mai fatto in vita mia un aereo di modellismo ho sempre fatto macchine e altre tipo moto ma questo aereo mi sta facendo veramente impazzire scusate se non ho fatto vedere tutto il passaggio dove ho messo questi 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 ma però meglio fate vedere già montati perché comunque guardate quadra fascicolo vi faccio vedere velocemente cosa c'era da montare e allora vedete qui ci vedeva inserire il motore poi qua ci diceva di mettere le viti dietro poi qua ci diceva di riattaccare i pezzi poi qua di rimette di mettere le le staffe dietro qua di mettere altre staffe dietro e poi qua di rimettere le centina 1 2 1 3 2 4 e poi mettere quelli tipo di stuzzicadenti che ci sono qua in periodi lunghi poi qua abbiamo messo il serbatoio abbiamo messo il 12 poi abbiamo messo dal 4 all'11 tutti i completi e poi abbiamo messo lo stuzzicadenti quello tipo fine fino lungo non so come si chiama questo qua e poi per finire abbiamo messo gli ultimi due 1 e 2 e questo è la parte finale nel prossimo uscita ci sarà il serbatoio e i supporti noi ragazzi ci fermiamo un attimo la prossima uscita lo monteremo però dovremo ordinare i pezzi che mi si sono rotti perché comunque la sfiga ha voluto che questi pezzi mi si sono spaccati va bene ragazzi dai mi sono dilungato anche in fin troppo vi ho fatto vedere quello che c'è da montare questo è il pezzo degli aereo che sta venendo finito noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi e scusate per questa schifezza di video che ho fatto perché non è venuto bene per me giudicate voi ciao ragazzi alla prossima